Allora ragazzi Juventus-Inter quasi al novantesimo punteggio di 0-0, Inter che attacca, Juventus che si difende. Vi ricordo che dovesse terminare così ovviamente grazie al risultato di andata la Juventus andrebbe in finale di Coppa Italia e vi ricordo invece anche che l'Inter per ribaltare la situazione arrivati a questo punto dovrebbe vincere 2-0. Motivo per cui appunto comincio a registrare e vi saluto immediatamente, ciao e bello a tutti da me, iscrivetevi e attivate la campanella, fate la stessa cosa sul secondo canale YouTube dove oggi è uscito un video spacchettamento di quelli veramente assurdi e vi chiedo scusa se oggi non sono riuscito a pubblicare il secondo contenuto di giornata all'incirca alle 18.30, ho avuto un contrattempo, domani mi farò perdonare, comunque iscrivetevi e attivate la campanella così sapete sempre quando escono i miei nuovi contenuti. Ve l'aspettavate una partita del genere? Da parte della Juventus potevamo aspettarcelo, da parte dell'Inter onestamente mi aspettavo qualcosa in più perché quando devi rincorrere secondo me devi badare anche un po' ad andare più sull'offensiva, no? E qualche occasione ovviamente l'Inter l'ha creata ma ripeto onestamente mi aspettavo molto di più. In realtà Juventus ha due facce e quando dico a due facce cosa intendo? Intendo che per i primi 20-25 minuti ha badato a gestire il possesso della palla, ha provato a cercare qualche imbucata, ma diciamo che ha più badato a tenere la palla per non farla recuperare all'Inter e per non scoprirsi. Poi c'è stato in realtà un tratto della partita in cui l'Inter ha preso il sopravvento territoriale e Juventus che in quel caso ha iniziato a chiudersi all'indietro, addirittura con Bernardeschi che retrocedeva sulla linea dei difensori che da 4 divenivano 5. Ma è normale questo tipo di atteggiamento quando sai che comunque serve un 2-0 agli avversari per andare in finale di Coppa Italia. Situazione calcio di rigore, situazione episodio calcio di rigore per l'Inter, punto interrogativo. Io vi dico assolutamente che non c'era calcio di rigore, lo hanno fatto rivedere e Lautaro Martinez ragazzi con il piede va a colpire Bernardeschi. Di conseguenza quello non è mai nella vita. Calcio di rigore. Inter che qualche chance ovviamente l'ha creata, ma ragazzi ci ha dato una cosa importantissima. Il Cristiano Ronaldo di turno, e poi parliamo anche un attimo di Achimi, quando la Juventus è ripartita è riuscito insomma a creare grattacapi dalle parti di Samira Andanovic che in un paio d'occasioni ha dovuto metterci qualche pezza. Mi viene in mente quella dell'occasione di poco fa, quel doppio passo. Quindi abbiamo capito quello che era il dettame tattico di Andrea Pirlo. Poi voglio dire una cosa su Andrea Pirlo. Prima però due paroline su Achimi, cacciatore fenomenale, credo che non lo stiamo scoprendo oggi e sicuramente uno dei più pericolosi dei suoi. Due paroline anche su Romelu Lukaku, perché in tanti leggevo sui social diceva il vero Lukaku, quello devastante che vedevamo a inizio stagione, perché ultimamente non è più così? Allora, secondo me ci sono da dire due cose. La prima è che dei momenti un po' più di calo sono anche abbastanza fisiologici e poi c'è anche da dire che oggi Lukaku comunque per la fase difensiva che ha fatto la Juventus sicuramente si è trovato particolarmente ingabbiato, no? Finora, ecco, al novantesimo l'occasione più ghiotta e nitida è stata per Lukaku, è stata quella palla di Eriksen, colui che la prende tipo de petto quasi de mano, forse de mano e sta palla che termina sul fondo. Quindi, onestamente, fossi un tifoso dell'Inter non mi preoccuperei minimamente perché, regà, sono cose fisiologiche, c'è può assolutamente stare capace che Lukaku dalla prossima ricomincia a segnare come ne ha dannato e non lo ferma più nessuno. Volevo aggiungere anche un'altra parolina su Demiral, ragazzi, su Demiral che si sta dimostrando veramente un difensore pazzesco e non a caso comunque la Juventus è la difesa più forte della Serie A. In Serie A, in 20 partite, la Juve ha subito solamente 18 reti e io vi posso assicurare che non è assolutamente facile. Due parole anche su Andrea Pirlo perché più passa il tempo, ragazzi, e più comincio a scoprirlo, più comincio a capire il tipo di allenatore che è Andrea Pirlo e vi posso dire che mi piace in particolar modo perché è uno che è il classico allenatore, classico tra virgolette perché è difficile trovarne così, un classico allenatore camaleontico che quindi si adatta alle esigenze della partita stessa e non sempre si schiera allo stesso modo. Una volta di mettere la difesa a 4, ecco, quando gli è servito difendere addirittura, ripeto, faceva retrocedere Bernardeschi sulla linea della difesa e si chiudevano a 5, ma in tante altre occasioni Pirlo ha schierato una difesa a 3 con due esterni, insomma, abbiamo visto tante alternative e soprattutto Andrea Pirlo sembra essere un tattico ma anche un gestore. è uno, insomma, che sa fare più cose, secondo me, e in base alla partita poi lui si organizza ed è molto bravo a prepararle, anche se la Juventus in qualche partita, in Serie A, ha dimostrato qualche passaggio a vuoto, per carità, perché la Juventus proprio contro l'Inter per 2-0, lo ricorderemo, in campionato avevano completamente sbagliato la partita, in quel caso l'Inter fu superiore, no? Però a Pirlo c'è da dire anche che è un allenatore che deve fare esperienza e piano piano la sta facendo. Ovviamente se sarà promosso o bocciato lo scopriremo solo verso la fine della stagione, perché adesso si possono tirare delle somme abbastanza provvisorie. Nel complesso, secondo me, comunque una finale di Coppa Italia raggiunta e una situazione di campionato comunque assolutamente buona per un allenatore che non ha esperienza, secondo me è veramente tanta tanta roba. D'altro canto, l'Inter, regà, che cosa può recriminare oggi? Secondo me doveva usare un po' di più, però mi metto anche nei panni loro, perché loro comunque avranno pensato, sì, ok, provo a fare un atteggiamento il più offensivo possibile, se poi mi scopro e la prima occasione prendo un contropiede e mi segnano, sapevano che ovviamente dalla parte dei bianconeri c'era un certo Cristiano Ronaldo, no? Quindi hanno dato una botta al cecchio. Sto a morire, siete? Abbiamo cuoccio d'acqua, scusate? C'ho il rischio che avevamo mito addosso. Dicevo, il rischio era proprio quello e ecco c'è stata una mezza occasione, ma ovviamente non è servita assolutamente a nulla. Reclamano un calcio d'angolo, ma non credo ci sia da quel che ho potuto vedere. Nel complesso, ragazzi, l'Inter lo ha dimostrato. È una squadra all'altezza della Juventus, assolutamente. Non è una squadra inferiore, e io lo ripeterò sempre. Quest'anno giochi dieci volte Juventus-Inter, dieci volte può finire in una maniera completamente diversa. Mai come quest'anno, le partite tra Inter e Juventus, e non solo, mi sembrano delle partite a scacchi. Dove vince chi la prepara meglio prima, e non sul campo. Pirlo oggi, secondo me, ha preparato la partita giusta, l'ha preparata come doveva, ma pure Conte alla fine non l'ha preparata male. Ripeto, è mancato qualcosa in termini di atteggiamento da parte dell'Inter, perché l'Inter è stata sicuramente all'altezza. e c'è anche chi poteva pensare, magari la Juventus non andrà a chiudersi così all'indietro e proverà a tenersi un po' più alta proprio per tenere lontana l'Inter, no? E invece, regà, alla fine comunque Pirlo ha ragione per quello che abbiamo visto. Buffon immenso, ragazzi. Continua ad essere immenso, la partita è finita in questo momento, quindi la Juventus se ne va in finale di Coppa Italia, e scopriremo domani sera chi sarà l'altra finalista tra Atalanta e Napoli. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi ad entrambi i canali, profili social, lista calco presunto in descrizione, contenuti consigliati, complimenti a loro che se la so aggiudicata. Ciao, regà!